È un progetto che stiamo seguendo da diversi anni, la regione Friuli Venezia Giulia ha messo a disposizione delle risorse economiche importanti. Con questo progetto oltre ad attrarre, ci spera davvero, nuovi turisti, tanti visitatori, si vuole anche riqualificare un'importante area per la città di Trieste. Quindi una città di Trieste che pezzetto dopo pezzetto si sta dando una veste nuova, moderna, attrattiva e sostenibile. Grazie a tutti.